La Pandolfaccia, un orgoglio fanese più che mai, cerca comunque nuovi proseliti appassionati di questo genere di manifestazioni. Stiamo cercando dei nuovi allevi un po' in tutti i settori della Pandolfaccia, che sono tanti, in modo tale da anche rimpiazzare e dare anche un po' di linfa giovanile a quelli che già hanno dato. Avete organizzato un Open Day, come ogni anno ormai fate, quindi chi vuole, dove vi può vedere e cosa può fare? Domenica, dalle 16.30, ci troverete in Piazza 20 Settembre, dove allestiremo un quadrato dove chi vuole può sia vedere quello che offre la Pandolfaccia, quello che fa la Pandolfaccia, ma soprattutto può provare, può direttamente prendere una bandiera in mano, può suonare un tamburo, può vedere come è fatta una spada, può provare anche dei balli di corte e vedere fino in fondo e toccare soprattutto con mano che cos'è la Pandolfaccia e che cosa fa. Oltre che un divertimento è una famiglia, nel senso che poi nell'arco degli anni si diventa parte di questa grande famiglia, ormai composta da più di 150 persone, e andare in giro con la Pandolfaccia è come dico sempre, noi andiamo dove c'è festa. E poi girate un po' tutto l'Italia. L'Italia e non solo, nel senso che nell'arco di questi 30 anni la Pandolfaccia ha fatto tantissime trasferte anche all'estero, tra queste Francia, siamo stati in Nigeria, siamo stati in Germania l'anno scorso con il gemellaggio con Rastat, ma soprattutto l'Italia, l'Italia, le marche sono girate in lungo e in largo. Grazie. Grazie.